La sapete la novità? Qui da Dotolo Mobili a Teverola abbiamo realizzato il più grande centro Stosa Cucine della Campania. Avrete l'opportunità di scoprire tutte le ultime novità delle collezioni Stosa Cucine. Tutti coloro che acquisteranno una cucina Stosa qui da Dotolo Mobili a Teverola avranno una sciogatrice in omaggio. Dotolo Mobili è a Teverola, di fronte al centro commerciale Medì.